Io sono Danilo Zuliani, regista del spettacolo Artù e la spada nella roccia, la storia di Re Artù. Presento la compagnia al volo, la compagnia Nomen Omen, che è qui presente. Dai, bambini per favore, smettete di giocare, giocano sempre, come vedete noi tendiamo a giocare spesso e volentieri. La compagnia Nomen Omen nasce nel 2007 e sta al suo sesto lavoro qui al Bascello, che c'è sempre ospitato e noi la adoriamo. La spada nella roccia, che cos'è? In realtà è difficile da spiegare in pochissimo tempo, perché è una storia sulla formazione, sul bello di apprendere, sul bello della scoperta, il bello di crescere, e il bello di trovare, praticamente, di far sviluppare un seme nascosto in ciascuno di noi. In questo caso il seme è nascosto in Artù e Artù diventerà appunto il re, ma il seme è nascosto in ciascuno, in ciascuno dei bambini presenti qui. E qui passiamo all'altro argomento, che è l'argomento del venite, 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 perché è uno spettacolo che merita di essere visto e apprezzato da tutti quanti. Quindi vi accoglieremo a braccia aperte qui, in questo magnifico posto che è il Teatro Bascello.